Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, oggi siamo qua su minecraft ok siamo partiti di giorno, tutti felizi e contenti e che cosa vorrei fare prima di tutto in questo episodio avete visto questo schifo potente? Allora prima di tutto io cosa vorrei fare in realtà di questo villaggio vorrei praticamente diciamo toglierlo tutto quanto in modo che sarà tutto per noi e potremo utilizzarlo come vogliamo e prima di tutto in questo episodio la prima cosa che vorrei fare in realtà è praticamente fare qualcosa di bello per questo fatto e infatti qui c'era una miniera no? e potremmo magari fare un'entrata per questa miniera anche se in realtà non è precisamente una miniera è una cosa abbastanza a caso ok quindi possiamo anche chiuderla però qui in realtà mi ero preparata una cassa con più o meno tutte le cose quindi per togliere la pepra eccetera e voglio farlo appunto di legno di betulla ora vediamo comunque come saranno le cose perché? perché io ho molto legno appunto però prima dovrò andare a dormire perché qui ho una... che cosa? si è mosso velocemente non so come ha fatto qui appunto abbiamo una scala provvisoria ma non mi piace assolutamente e non voglio che appunto rimanga in questo modo e questa mucca cosa fa? non voglio che appunto rimanga in questo modo quindi andiamo subito a dormire e poi il giorno dopo vediamo cosa fare bene allora mangiamo ok e poi andrò comunque io a prendere altro legno qui ho un sacco di pane eccetera eccetera quindi intanto no vediamo cosa ci serve possiamo togliere intanto questo questo si ok vabbè tutte le cose che non ci interessa non possiamo praticamente toglierle allora credo che comunque qui dovremmo togliere togliere un po' tutto ovviamente se cioè questa sarà appunto una serie dove farò molti tagli ragazzi perché non voglio comunque annoiarvi eccetera eccetera quindi preferirei appunto fare molti tagli allora intanto qui facciamo così e sinceramente non so da dove partire perché? perché non ho mai capito una cosa del genere diciamo quindi non ne ho idea intanto togliamo un po' di tutte queste cose ok anche perché non so da dove cominciare devo essere sincera cioè devo essere veramente sincera ragazzi non voglio sprecare il legno preferisco sprecare la la così ok la cosa ok credo che comunque magari potrebbe uscire una cosa un po' rompiscatolina ok comunque questa boom boom e ok siamo comunque quasi arrivati poi ovviamente piano piano la belirò o comunque ditemi come ditemi magari sotto nei commenti come abbellirla e così magari perché fa sinceramente fa un po' schifo queste non ci servono mettiamole là tanto ok allora non ho una come si dice una cosa a portata di mano un'ascia perché sono molto intelligente ditemi brava uuuu facemi un applauso ok quindi togliamo un attimo questo legno lì c'è la porta ma comunque poi diciamo che questo villaggio andrà praticamente cioè tipo ciao sarebbe da dire perché diciamo che poi lo toglieremo in pratica sarà soltanto una nostra cosa insomma sì che poi villager si ritroveranno senza casa e cose varie anche perché mi sa che dovremmo spostare l'entrata in casa nostra però piano piano si fa più allora teniamo questo questo ecco appunto è rimasto solo quello però credo che comunque no 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 credo che comunque possiamo farcela anche perché mi ha fatto un bel po' di scale quindi voi direte magari ho esagerato e io vi risponderò avete ragione ho esagerato vabbè magari queste scale ci sentiranno in qualche modo potremmo sfruttarle magari appunto in qualche caso ah ok l'ho presa ma allora non tracce dove sa no come si chiama la pietra fucaia che non mi ricordavo ma in mezzo ok l'abbelliremo ovviamente togliamo queste cose che non mi piacciono togliamo anche questo e magari facciamo in questo modo ovviamente queste cose sinceramente non voglio toglierle in modo che comunque è una cosa che facciamo insieme secondo me poi ditemi magari queste parti dove c'è nelle parti dove magari costruisco e cose del genere ditemi se le volete vedere o meno intanto qui copriamo direi di farlo tutto uguale anche se nessuno magari andrà a vedere questa cosa però almeno sappiamo che per nostra cosa bene è fatto bene ed è tutto uguale facciamo così e qua lo togliamo ok quindi per il momento almeno abbiamo fatto una scala per bene ora direi appunto di approfittare di questa in modo che facciamo così così ok perché almeno se no rimane questo vuoto e non è che mi piace moltissimo ok no mangia ecco qui e intanto la scala l'abbiamo fatta qui chiuderei sinceramente qua e qua vabbè poi qua magari abbellisco tutto quanto togliamo questo yes e ci prendiamo anche questa qui mi aspettavo che le scal ci servisse molte invece non è vero proprio mi sono veramente sbagliata ok sinceramente ora aspetto non saprei proprio nel senso allora intanto questo va qui e in realtà va tolto anche questo ah già ok quindi dobbiamo inventarci qualcosa di carino magari suggeritimolo sotto nei commenti perché non saprei proprio allora se magari la porta può stare qui ma mi sa che comunque c'è ancora ecco c'erano ancora le scale forse dov'è sì mannaggia mannaggia no raga io non so fare neanche il percorro di due centimetri facciamo così qua chiudiamo no aspetta chiudiamo con il legno che legno è questo no assolutamente no che legno è perché non lo so non c'è di quercia teniamo questo ok togliamo questo e ci mettiamo la porta perché anche se comunque in tralcia magari posso metterlo in questo modo di qua quindi facciamo così poi questa di qua e visto che comunque non è che non posso fare così ah sì posso ok allora credo che così vada bene mettiamo questo e questo così no verso fuori ho sbagliato grande aurora incredibile proprio ok cosa no ho visto qualcosa come volare tipo volare ecco mettiamo male questo così però questo non va bene in effetti forse posso provare ho sbagliato ho sbagliato perché anche se non so fare io comunque preferisco lo posso dire l'altro ecco la fabbricazione classica che più o meno vedo eccetera ne fa sei non se ne servirebbero cioè non servirebbero sei però se ce ne da sei a me ne sei ok in modo che posso mettere questo qui e spero no mannaggia non posso caspiterina ragazzi non posso in effetti a barroni mettiamo questo qui però mettiamo per forza questo perché se no non possiamo diciamo così almeno è tranquillo ecco e lo possiamo fare senza problemi ok intanto dire di mettere la pietra focaia qui e anche perché ragazzi prima di chiudere il video vorrei farvi vedere appunto una cosa che è di casa mia appunto come potete vedere io qua ho messo un'altra cassa con tutte le altre cose perché perché qui scavando scavando appunto off camera ho trovato una grotta dove ho sentito addirittura anche una strega quindi vorrei ovviamente mi sono fermata e vorrei appunto andarci con voi però appunto io non voglio lasciare così proprio un buco vorrei appunto ho messo questa cosa per magari come dire appellirla un pochino fuori ho messo tutte queste cosine poi comunque magari aiutatemi sotto nei commenti e ditemi magari come appellirla e cose varie che ne sarei molto felice quindi entriamo dentro magari che sta diventando notte ok comunque ho un'idea ho un'idea ho un'idea prima di fermarci qua allora facciamo così prendiamo dove è questa qua questo lo togliamo aspetta no niente niente raga ho sbagliato io pensavo che potrebbe anzi si 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 allora mettiamo uno così e poi ne mettiamo uno così di modo che e abbiamo sistemato anche questa questione in qualche modo ok comunque io dirò che possiamo fermarci con questo episodio lasciate un mi piace commentate iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto ciao a tutti a tutti Grazie a tutti.